Pomeriggio letterario con ospiti particolari a Pordenone, dove Casa Serena apre le porte alla poesia. Mercoledì 16 novembre l'Istituto per Anziani ha ospitato un incontro rivolto agli ospiti della struttura, ma ha aperto anche ai familiari e al pubblico esterno. Alcuni poeti pordenonesi, infatti, hanno letto le loro composizioni in versi. Si è trattato del secondo appuntamento con i Poeti di Scilla, manifestazione organizzata per il secondo anno consecutivo dalla Samuele Editore, vivace casa editrice che anima dinamiche e iniziative intorno alla lettura e alla poesia. L'assessore comunale Flavio Moro. È un momento importante e particolare. Le poesie sono un momento per esprimere i propri sentimenti, raccontano la storia. Gli anziani hanno bisogno anche di ricordare. L'auspicio è quello di riuscire a coinvolgere anche i giovani, la generazione dei giovani, coinvolgendoli assieme agli anziani per una lettura fatta assieme. Ho visto molto interesse da parte loro per queste iniziative che dimostrano che l'attività della cazzeria non è solo di tipo ludico ma anche culturale e questo serve agli anziani qui presenti per continuare a mantenere viva il loro interesse, con l'augurio proprio che questo luogo sia anche un luogo in cui gli anziani si possono divertire e stare bene. Grazie. Grazie. Grazie.